La Spezza Port Service è un'azienda che negli anni si è consolidata nella cosiddetta gestione dell'ultimo miglio per quanto riguarda la merce in entrata e in uscita dal porto. È una società giovane a 10 anni, però è una società che è nata su volontà di associazioni di categoria, spedizionieri, doganalisti e poi nel corso degli anni ha visto l'ingresso di imprenditori noti all'interno del mondo portuale che hanno creduto in questa società. La Spezza Port Service di fatto opera nel settore import ed export per la gestione dell'ultimo miglio della merce in entrata in uscita dal porto e ha due centri servizi proprio legati all'export e all'import. Sostanzialmente in questi due settori importanti vengono fatte tutte le gestioni documentali doganali, quindi la raccolta dei documenti per tutta la merce in esportazione, quindi anche il supporto agli organi di controllo per quanto riguarda alcune verifiche che devono essere fatte sulla merce in entrata e la gestione della merce in uscita dal porto, quindi importazione, rispetto al quale vengono poi per conto di spedizionieri consegnati i documenti a scorta della merce obbligatori e anche lì vengono date poi delle liste di uscita alla Guardia di Finanza che sono quelle che poi consentono la merce di uscire quando è anche svincolata dalla dogana. La Spezia Port Service è cresciuta soprattutto nel settore informatico e da circa quattro anni siamo gestori della Port Community System che è la piattaforma dell'autorità di sistema portuale che praticamente raggruppa tutti gli attori dei processi di entrata e uscita della merce e dove finiscono i dati fondamentali per quanto riguarda la comunicazione e il controllo della merce in entrata, quindi praticamente tutto ciò che entra, tutto ciò che esce di merce nel porto di Spezia deve essere flussato in questa piattaforma dove poi c'è questa condivisione del dato e dalla piattaforma poi ci possono essere anche posizioni diciamo degli organi di controllo per verificare se fare delle verifiche, dei controlli oppure insomma fare degli approfondimenti diciamo documentali. Inoltre gestiamo anche tutto il processo della pesatura della merce perché tutti i contenitori sottoposti a export vengono pesati, devono essere pesati o in origine o all'interno del porto perché c'è necessità di avere il certificato di pesatura per imbarcare il contenitore e su questo processo è stato sviluppato anche come dire un software informatico che noi abbiamo come dire inserito diciamo nella gestione dei processi a favore di tutti gli operatori in particolar modo degli spedizionieri e degli agenti. L'altro elemento che ha caratterizzato l'attività di la Spezia for Service che rappresenta come dire anche un po' il fiore all'occhiello nel senso che rappresenta come dire un unicum in Italia è la creazione del centro unico dei servizi a Santo Stefano dove praticamente la merce viene trasferita attraverso un controllo satellitare quindi tutto ciò che parte dai porti e quindi dal porto di Spezia Terminal Tarros e Terminal SCT arriva a Santo Stefano c'è un controllo satellitare della merce tramite la piattaforma della logistica nazionale di Wearnet quindi viene come dire ingaggiato il contenitore in uscita e viene poi scaricato diciamo l'ingaggio quando entra Santo Stefano perché è ancora merce che non è stata come dire nazionalizzata. Vengono gestiti i controlli in collaborazione con tutti gli enti di controllo quindi guardia di finanza, dogana, veterinari, sanità marittima, fitopatologo, CITES insomma tutti gli enti che partecipano alla verifica contro la merce e quindi si fa lo svincolo e la merce può essere trasferita nei magazzini. Noi gestiamo questo servizio a Santo Stefano lo facevamo prima diciamo senza avere il centro unico dei servizi ma era molto come dire articolato in maniera un po' più semplice ora è molto informatizzato tant'è che il nostro ufficio informatico ha sviluppato addirittura un processo informatico un'app dove lo spedizioniere in tempo reale riesce a vedere il suo contenitore la merce si è sopposta verifica quale tipo di verifica è stata fatta se è stata svincolata e quando può essere come dire passata al trasportatore per la consegna della merce al magazzino. Le figure professionali di cui ha bisogno il nostro settore sono innanzitutto informatici applicati ai processi doganali figure tecniche impiegati tecnici che normalmente noi come dire prendiamo dalle scuole di formazione quindi Cisita e scuola nazionale dei trasporti e soprattutto è importante questo perché siamo un mercato di nicchia molto specifico e la formazione e la preparazione è fondamentale per poter poi accedere direttamente ai processi operativi. Sono Stefania e sono un'impiegata del centro servizi di La Spezia Porta Service ufficio import noi operiamo per conto degli spedizionieri in collaborazione con la guardia di finanza il nostro servizio è legato principalmente alla documentazione doganale del primo miglio di importazione ci occupiamo dell'inserimento dei documenti doganali sulle piattaforme informatiche per l'uscita dei contenitori che sbarcano dalle navi porta container e della merce varia previa autorizzazione della guardia di finanza sul riscontro documentale assistiamo inoltre tutti i nostri clienti sulla risoluzione delle anomalie e la gestione import sulla piattaforma informatica appinet e sulle piattaforme dei terminal tutto questo per ridurre i tempi burocratici per evitare le soste dei contenitori fermi e per non avere margine di errore. Mi chiamo Sonia Terenzoni e sono la responsabile dell'ufficio export di La Spezia Porta Service il nostro lavoro consiste nella gestione della parte di esportazione delle merci che entrano sia merci varie sia su container possono entrare su rotaie treno o su gomma camion noi facciamo un controllo uno smistamento della merce che arriva dei documenti e li consegniamo ai nostri clienti spedizionieri verifichiamo i VGM di ogni contenitore la pesatura la destinazione la nave dove devono andare all'imbarco praticamente noi seguiamo dall'entrata fino all'imbarco tutto quello che succede al contenitore il nostro orario di lavoro va dalle 8 alle 20 chiaramente coperto da turnisti e per svolgere il nostro lavoro bisogna avere delle competenze informatiche e anche delle competenze doganali grazie 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 grazie